Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Cyborg Robocop. Ecco qui il nuovo arrivo, vi leggo subito la spedizione è la numero 9 e ho i pezzi dal numero 24 al numero 27, quindi abbiamo quattro uscite io l'ho già aperto, mi sono portato avanti con il montaggio, poi ho rismontato, sapete come faccio per aiutarvi, faccio questo e seguitemi soprattutto, oltre che in questo video, anche nelle sessioni di montaggio, i video che seguiranno dopo, perché ho delle importanti informazioni da darvi, soprattutto dei consigli che io ritengo importanti, così come ho fatto con Iron Man, chi mi segue lo sa. Allora, innanzitutto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie alle quali e grazie ai quali iscritti contribuite a dare vita al canale, grazie ragazzi con tutto il mio cuore. Per le persone invece che non si sono ancora iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di cyborg o robot. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da Michele, mi contatti privatamente, grazie. Adesso, in questo video, io dedicherò più tempo per consentire alle persone che ovviamente non hanno fatto la collezione e hanno piacere di dare lettura, appunto di poterlo fare. Così, quando poi andrò a fare i video dedicati al montaggio, tutto questo lo saltiamo. Io poi, per fare il montaggio, userò un lubrificante per crearmi i filetti grazie alle viti, solo ed esclusivamente nel metallo. Ricordatevelo, non usate alcun lubrificante per la plastica. Vi ho spiegato più e più volte le motivazioni. Quale lubrificante dovete usare? Non importa quale lubrificante voi usiate, quello che conta è che usiate un lubrificante, perché ci serve esclusivamente per rendere più semplice e far scorrere meglio la vite quando andrà a crearsi il filetto nella zama o altro materiale che è zinco che sia. Questi fascicoli sono davvero molto ricchi. vi do nuovamente l'informazione e il consiglio, soprattutto perché ricordatevi che vi servirà, che vi ho dato già all'inizio. Se mandate avanti i video veloci, magari vi perdete quei momenti. Non mandate avanti i video veloci, ragazzi. Non li mandate avanti veloci. Dovete guardarli tutti. Altrimenti come lo aiutiamo Michele? Dai ragazzi, cosa vi costa? Non andate subito al montaggio. Guardate le pubblicità, non le saltate, mi raccomando. Comunque, vi anticipo, anzi ribadisco, non mettete le coperture in maniera definitiva, quelle di plastica che coprono l'accesso alle viti che vi permettono poi di smontare magari le due parti per arrivare al meccanismo di qualche snodo, gomito, anca, qualsiasi cosa che poi col tempo si assesta e la vostra armatura, in questo caso il cyborg, vi rimane poi come una marionetta, così come è successo a molti di voi con Iron Man. Mi raccomando. Poi vi spiegherò tutto meglio nello specifico nelle fasi di montaggio. Andiamo a vedere il pezzo che troviamo qui. poi successivamente, una volta finita questa presentazione, non andate via perché prendo tutto quello che ho montato fino al numero 23 e poi ci salutiamo. Questo è un pezzo tutto in metallo, molto grande. Abbiamo una serie di viti EM, la lettera finale M indica metallo e qui io mi avvarrò di un lubrificante per crearmi il filetto e l'ho già fatto come potete vedere. Io mi sono andato già a creare i filetti così quando farò il video di montaggio riuscirò ad essere meno lungo ma ad altronde non può essere diversamente. Il mio canale non si occupa del solo montaggio ma mi dedico ad aiutare le persone che hanno più difficoltà per evitare che possiano loro fare danni al modello. Questo invece non è nient'altro che, adesso vi faccio vedere, ecco qua, vedete? Qui abbiamo questo pezzo, questo è il pezzo che poi andrà dall'altra parte quindi conservatelo perché non servirà in nessuna di queste fasi del montaggio quindi né per il 24 né il 25 né il 26 né il 27. Conservatelo. Non so se potete vedere quanto è lucido il mio modello e qui c'è un segreto ragazzi che non posso proprio dirvi tutto 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 perché qualcosa devo anche guadagnarmi quindi lo faccio su commissione e io faccio diventare il modello tutto lucido come piace a me guardate invece che opaco perché me lo ricordavo più lucido il modello rispetto a quello che invece ci viene fornito che è bellissimo lo stesso e tenetelo pure così allora e questo l'abbiamo visto passiamo al numero 25 questo lo mettiamo momentaneamente via ecco il numero 25 sentirete in sottofondo il mio fratellino per me un fratellino che è un gatto europeo di poco più di due anni che si chiama Michelangelo purtroppo vorrei tanto poterlo lasciare libero però se lo faccio entrare mentre faccio i filmati non mi basta tutta la colla che ho poi per riparare i danni che mi fa e quindi lo sentirete miagolare mi piange il cuore anche perché poi mi fa il muso quando apro dopo e dovete vedere come offeso pensa che io gli ho voluto fare un dispetto invece mi costa tantissimo lasciarlo nel bagno io ho dato tutto quello che serve a mangiare da bere c'è anche lo spazio per potersi riposare su qualcosa di morbido però ripeto diventa impossibile lasciarlo libero quindi ecco se sentite miagolare è un dolcissimo sottofondo visto che non sono capaci di mettere la musica almeno miagola il mio Michelangelo avete visto siamo arrivati a oltre 4000 iscritti al canale io uso volutamente il plurale perché perché senza di voi io non sarei qui a continuare a fare video voi alimentate la mia passione grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri in privato e anche sul canale il primo è stato diego il ragazzo che mi ha commissionato la yamaka yzr meglio conosciuta come la m1 di valentino rossi e poi sono seguite altre tre persone grazie comunque a tutti abbiamo quasi finito anche questo fascicolo leggeteli fascicoli ovviamente mi rivolgo a coloro i quali non hanno fatto la collezione perché sono davvero interessanti non si parla soltanto del film o di Alex Murphy il personaggio appunto l'uomo che poi è diventato cyborg paladino della giustizia il poliziotto lo era già prima poliziotto almeno lo conosciamo tutti a memoria perché almeno della mia decade dei miei anni chi se l'è ha perso robocop un po' come e adesso molti di voi non sapranno nemmeno di cosa io stia parlando un po' come furia al cavallo del west ma chi è che se ne perdeva una di quelle mamma mia e vi ricordate ho pipi calze lunghe va bene andiamo a vedere questo pezzo secondo me hanno continuano a sbagliare come hanno fatto con ironman lo hanno migliorato e rispetto ad ironman che io ritengo sempre che sia un prodotto meraviglioso ci sono stati dei difetti che sono riuscito a correggere però ecco questo andava in metallo hanno fatto in metallo logiva ma hanno fatto in plastica questo però dai abbiamo questo che è il supporto esterno della sfera dell'anca sinistra questo invece è come ci dicono quello interno e poi ci sono delle cose anche da dire qui vedete io sono andato già a crearmi i filetti sempre senza lubrificante con la vite e p ce ne serviranno tre una vi avanza infatti prima erano quattro e mi sono creati i filetti chiedo scusa prima erano sei ne ho messe tre qui e due laterali e una mia avanzata poi abbiamo questi che sono i cuscinetti se riesco a prenderli non ho unghie come faccio vediamo un po' è un attimo ecco non ce la faccio bribbio fuori sudore ecco qua che bello questi sono i giunti poi vanno messi così è ma lo vedremo poi nella fase di montaggio il grande sotto il piccolo sopra e basta mazing è un robot che ovviamente non è di altezza un metro ottanta ma decine di metri quindi però questo è alto circa 62 centimetri iron è alto 60 e il mazinga z sarà 75 sono dei tre sono tre bei pezzi poi sicuramente faranno anche il grande mazinga gigobo d'acciaio e il gold ray vedrete bene andiamo a vedere fascicolo numero 26 e e e e e e e probabilmente oltre già alla yamaka che mi è stata commissionata lo mio iscritto forse ma ancora non dico nulla ci sono altri due modelli che mi sono stati chiesti da un iscritto da poter montare insomma vedremo vi farò sapere non dico ancora nulla perché non è ancora certo ecco qui le fasi del montaggio quello che si vede in argento e quello che poi abbiamo materialmente noi già adesso nelle mani tutto ciò che vedete in viola è quello che ancora dobbiamo ricevere quindi ovviamente montare montare che titolo inquietante due volte inquietante la morte e poi può attendere sembra il titolo di un film abbiamo quasi terminato anche questo fascicolo mi piace anche molto il cartaceo di questi fascicoli è una carta traslucida abbastanza resistente mi piace molto ecco qui andiamo a vedere il contenuto anche del fascicolo numero 26 abbiamo queste due parti che sono in plastica abbiamo una serie di viti cipi 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 ne troverete sei all'interno qua ne è avanzata una sapete che una è data sempre in più perché io come vi ho già detto mi sono andato già a creare i filetti che adesso vi farò vedere eccoli qua dove vedete le viti questi invece sono queste sono le piastre di giunzione tra un pezzo e l'altro ecco questo ad esempio verrà messo così ecco qui e quindi questa verrà messa qua una volta tolte le viti verrà messa qui una volta riavitata questo consentirà al pezzo di rimanere in posizione bene anche questo l'abbiamo visto ve lo faccio vedere solo meglio nel dettaglio molto bello guardate anche qua la vernice come bella lucida ecco qui ci è rimasto ancora da guardare l'ultimo numero il 27 e poi andiamo a vedere dove siamo arrivati con tutto il montaggio fino al numero 23 e infine il 27 eccolo qui ho cercato di dare più luce all'immagine spero di esserci riuscito questo era ma davvero cattivo ecco qui quindi con questo numero abbiamo quasi terminato la gamba sinistra dico quasi terminato perché mancano poi dei particolari qui ad esempio manca poi la borchia vedete dove vedete il viola deve essere tutto come vi ho detto già prima argentato che è quello che abbiamo materialmente montato siamo quasi giunto al termine anche di questo ultimo fascicolo eh c'è davvero tanto è bello robocop e l'abbiamo scelto ovviamente perché ci piace l'oggetto ma non sono meno i contenuti dei fascicoli ecco qui vediamo vediamo prossimo numero la sesta parte della coscia sinistra competeremo infatti la coscia sinistra montando le ultime piastre decorative quelle di cui vi parlavo prima che adesso ancora mancano numero 27 andiamo a prendere questi due pezzi davvero grandi in plastica anche questi io ho già fatto il trattamento vedete che sono belli lucidi a me piace più così guardate si vede il dito pollice specchiato qua troviamo due serie di viti attenzione poi a non confonderle perché tutte e due hanno lo stesso passo quindi il passo è il filetto la distanza che c'è tra una riga e l'altra e tutte e due hanno lo stesso diametro ma sono differenti per lunghezza quindi attenzione guardate sempre bene le istruzioni perché tutto spiegato bene in maniera dettagliata qui abbiamo la piastra di copertura che in plastica controllate sempre le lettere dietro perché può capitare che si sbaglino e vi mandino la destra dove ci va la sinistra o la sinistra dove ci va la destra quindi fate attenzione ecco vedete queste sono le CP e queste sono le EP tutte e due da avvitare nella plastica ma se fate attenzione queste sono più corte di queste altre le EP sono più lunghe quindi non vi sbagliate mettiamo via anche questo guardiamo tutto quello che ho montato fino al numero 23 e poi ci salutiamo queste sono i due connettori le piazze di giunzione come il numero che abbiamo visto prima ok e questo è quanto abbiamo montato fino all'uscita numero 23 io direi che non è affatto poco ecco qui il piede destro tutto in metallo gran parte della gamba sinistra ecco qui ecco qui braccio sinistro chiedo scusa braccio destro questa parte nera che vedete è in gomma questa è in plastica guardate le dita tutte tutte mobili qui abbiamo questa parte che è calamitata vi ricorderete che poi ci va anche un'altra arma che è quello spuntone quello spillone è abbastanza grande quindi sarà poi da sostituire con questo semplicemente appoggiarlo sopra la calamita fa il suo lavoro ecco qui i due pezzi dei pettorali questo che vedete in rilievo in plastica tutto il resto è metallo e poi ecco qui questo sarà veramente veramente quello che farà la differenza perché perché sotto ci sarà poi il volto il semivolto di Alex anzi no il volto ci sarà tutto quindi il volto di Alex Murphy riprodotto in lattice sarà una piccola opera d'arte vedrete qui abbiamo una calamita anzi questa è la calamita qui abbiamo la parte metallica quindi la gancia è dato proprio dall'unione dai due è molto forte come calamita questo mi piace qui vedete abbiamo la parte in plastica che è questa sentite la gancio molto forte bene ragazzi io penso di avervi fatto vedere tutto guardate che spettacolo io vi ringrazio del vostro tempo mi raccomando non mancate nei montaggi adesso che seguiranno ma guardate che bello perché come vi ho anticipato ci saranno consigli che io ritengo siano molto importanti soprattutto poi per la funzionalità e la stabilità dell'armatura mi raccomando ciao ragazzi grazie 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 grazie